Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale oggi andremo ad unboxare il mio nuovo case sto parlando del Master Box 5 prodotto da Cooler Master ma bando alle ciance e partiamo subito con l'unboxing come vedete dalla foto il case viene spedito nella sua scatola originale molto solida e soprattutto ben protetto prima di passare al contenuto però della confezione voglio dirvi che si tratta di un mid tower come vedete qui a sinistra dell'immagine abbiamo le varie tipologie di case e questo si pone nel mezzo tra un full tower quindi il massimo dello spazio e i mini tower ovviamente questo è il formato più utilizzato perché è un'ottima via di mezzo per poter ospitare diversi componenti allora passiamo subito al contenuto della confezione il case viene fornito con tutte le viti e distanziatori necessari per il montaggio come vedete qui sempre a sinistra dell'immagine troviamo anche 10 pratiche fascette e torneranno veramente utili per il nostro cable management bene dopo il contenuto della confezione passiamo appunto al pezzo forte ovvero il Master Box 5 eccolo in tutto il suo splendore come potete vedere si tratta di un case finestrato nel davanti offre, cioè non offre spazi per lettori DVD o altro per esempio lettori di memoria eccetera il tutto però viene sostituito da questa mascherina a nido d'ape che nasconde le ventole del case nel suo frontale avviciniamoci però e guardiamo meglio il frontalino del case come potete vedere nella parte superiore del case troviamo a posto un led di stato che indicherà appunto che il nostro HD e il nostro hard disk lavora poi due porte USB 3.0 molto comode il tasto power bello grande e subito accanto un jack cuffie per l'ingresso cuffie appunto e uno per il microfono per chi ha il microfono che entra con il jack e infine un piccolissimo tasto di reset molto molto comodo perché comunque anziché levare la spina in caso di emergenza è meglio sempre resettare prima di passare all'interno del case volevo mostrarvi la moscherina frontale aperta che come vedete può ospitare ben tre ventole da 120 mm quindi quelle belle grandi inoltre di serie ne troviamo una nella parte frontale passiamo ora al retro del case da cui possiamo notare la seconda ventola in dotazione sempre da 120 mm e i vari spazi per la scheda madre gli altri slot per le schede PCI eccetera in basso trova posto anche l'alimentatore in formato ATX praticamente quello tradizionale ecco ora un bel dettaglio del case aperto con evidenziati i vari slot per le ventole come potete vedere appunto vi dicevo che ne può montare fino a tre sul davanti e una nella parte posteriore del case se necessitate di un sistema di raffreddamento al liquido potrete anche installare dei radiatori con una grandezza da 120 mm fino a un massimo di 360 mm qui in foto vi mostro appunto quelli prodotti dalla Cooler Master che sono molto molto eleganti e ovviamente hanno le dimensioni corrette per questo case ma anche quelle delle altre marche vanno più che bene ora passiamo ad analizzare i vari settori del case che come potete vedere possiamo montare ben quattro tipologie diverse di schede madri nel formato EATX ATX quella tradizionale MATX e MITX insomma potete montarci veramente di tutto è un case molto molto comodo anche il lato gaming ragazzi viene ampiamente soddisfatto da questo fantastico case perché infatti può ospitare schede video da ben 410 mm dei veri vitelli praticamente le bestie queste dell'NVIDIA della Radeon passiamo ora ai vari slot per i nostri SSD e hard disk come potete vedere possiamo montare i nostri dischi in nove posizioni diverse e oltretutto ragazzi possiamo mettere ovviamente un disco per ogni spazio in più come vedete in basso offre due slot a scorrimento per gli hard disk questi grandi quelli tradizionali cosa che trovo veramente comodo perché li disponi là dentro e non hai bisogno di supportini aggiuntivi all'inizio del video vi parlavo appunto del cable management dei vari cavi come potete vedere in questo case offre tantissimo spazio per i cavi anche l'alimentatore viene coperto da questo supporto in plastica che andrà a nascondere tutti i cavi ovviamente ragazzi per una disposizione migliore dei fili e una comodità anche vostra vi consiglio l'acquisto di un alimentatore modulare cosa cambia dall'alimentatore tradizionale che in un alimentatore modulare potrete disporre come volete i vostri cavi ovvero mettete solo quelli che andrete realmente a utilizzare perché comunque nel frontale vi offrirà gli ingressi per le varie alimentazioni e quindi sceglierete voi quale mettere bene ragazzi eccoci alla fine di questo unboxing e prima di salutarvi voglio mostrarvi tre foto con tre configurazioni hardware differenti giusto così per farvi innamorare di questo Master 5 Masterbox 5 e come sempre ragazzi vi ricordo che in descrizione trovate il link al mio sito con tutte le caratteristiche tecniche del case e il link da Amazon per poterlo acquistare bene ragazzi come sempre vi invito a lasciare un mi piace se vi è piaciuto il video condividerlo con i vostri amici lasciarmi un commento per qualsiasi informazione ah oltre tutto ragazzi dimenticavo nel sito vi ho messo le specifiche tecniche complete del case così potete vedere dimensioni e tutto quanto lo trovate scritto lì bene io vi saluto e ci vediamo come sempre in un prossimo unboxing ciao 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 ciao